Scoppia una tempesta attorno a Mara Venier dopo le sue dichiarazioni incendiarie riguardo al caso di Giulia Tramontano durante l'ultima puntata domenicale. La celebre conduttrice si è trovata al centro di una controversia indiretta, definendo il compagno Reo confesso un mostro e pronunciando parole dure anche nei confronti della sua famiglia. Nonostante i tentativi di giustificarsi durante la trasmissione, sembra che le sue parole non siano state ben accolte dai vertici della RAI. A infiammare ulteriormente le accuse è intervenuto Riccardo Laganà, consigliere d'amministrazione RAI, che sembra voler mettere in discussione il ruolo di zia Mara nel programma di punta del canale domenicale di RAI1. Laganà ha espresso le sue opinioni su Twitter, criticando la gestione degli spazi televisivi da parte dei dirigenti e suggerendo un intervento per correggere eventuali distorsioni nel servizio pubblico. Secondo il dirigente, sarebbe necessario prestare maggiore attenzione a ciò che accade durante le trasmissioni in onda. Si teme che questa polemica, che è esplosa proprio sul primo canale della RAI, possa avere conseguenze sulla carriera della conduttrice Mara Venier. Da anni, infatti, Venier ha dichiarato di voler abbandonare la conduzione del programma per potersi finalmente godere un periodo di riposo tanto desiderato. Ora, con il termine della stagione televisiva in vista, si chiede se il riposo tanto atteso arriverà effettivamente con l'inizio della prossima stagione o se le recenti vicende influenzeranno la sua decisione.